Passa favorito, i cavalli sono in partenza e sono partiti in questo momento. Dall'esterno, veloce Oro di San Rossore, all'interno Nike Blue e Battle, seconda linea per Rafael Caffè e Zonderwater. Indietro Zayza, con i cavalli che vanno ad affrontare la piegata. Oro di San Rossore in vantaggio, all'interno Battle, all'argo Nike Blue, a contatto richiesta adesso Zonderwater, quindi Rafael Caffè e Zayza. Completamento della piegata, ingresso in dirittura con Oro di San Rossore che viene verso lo steccato opposto. All'interno c'è Battle, ancora più all'interno Zonderwater, a ridosso Nike Blue, poi Rafael Caffè e Zayza con Oro di San Rossore che figura in vantaggio, 200 dal palo nei confronti di Zonderwater, Battle e Nike Blue, poi finisce forte anche Rafael Caffè. Oro di San Rossore che si mantiene in vantaggio nei confronti di Zonderwater e Rafael Caffè. Vince Oro di San Rossore davanti a Zonderwater e Rafael Caffè. 6-4-7, l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda la seconda corsa del pomeriggio. Vince Oro di San Rossore, i colori di Roberto Staderini, il treno di Emilio Pellegrino, Nicola Pinna in sella. 3-39 la quota.